no sto cercando di fare un video... però ci vede un gatto eeeh eeeh ma andalo carmine zucchi a completo a completo e' un po' che io non rinno no, stiamo a chiota qui sotto stiamo a chiota qui sotto stiamo a chiota qui sotto vai, donna, donna vai, vai vai, vai non lo so stiamo a chiota la cosa e' una cosa ma che cosa stiamo a posta stiamo a posta e qui stiamo a posta stiamo a posta vai qui stiamo a posta stiamo a posto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.